Questo video non ha itato di violare alcun copyright o danneggiare il materiale originale, è semplicemente una guida amatoriale creata dai fan per altri fan. Mi sento bene? Beh, se vogliamo davvero risolvere questa faccenda, la prima cosa che dobbiamo fare è uscire di qui e trovare Luna. Tranquillo, Craig. Ve ne occupo io. Direi che l'hai sistemato, Ratchet. Mi sto solo scaldando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh 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 Per mirare i nemici sul soffitto premi il tasto X So Note . Note . 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.